E' la decima giornata del campionato di Serie A, è il derby di Juventus e Torino. Pala per Boniek, Rossi vince un contrasto, Rossi carica il destro, la parata di Terraneo. Galbiati, avanza Galbiati, pensa al tiro, poi si appoggia Hernandez, porta la palla sul destro, alto. Avanza Boniek, l'esterno la mette dentro, il controllo di Bettega, si gira a Bettega il palo, dice di no al numero 7 della Juve. La tutta corta, Rossi in mezzo, Tardelli, la parata di Terraneo, arriva Platini. Juventus in vantaggio, 1-0, Michel Platini. Rossi di Gentile sul secondo palo, Rossi, la parata di Terraneo. Batte Platini, tiro di Boniek, altissimo. Bettega controlla con il tacco, poi di testa arriva Boniek, riesce a vincere un contrasto, si appoggia Platini. Centrale, Terraneo. Turrisi, il colpo di testa, risposta di Zoff. Galbiati ci prova dalla distanza, fuori di Poku. Ballone in mezzo, arriva in corsa, Boniek! Non trova lo specchio della porta. Alla per Bertuneri, la mette giù con il sinistro, la parata di Zoff.